Non a caso una delle canzoni più votate da voi ed è una delle canzoni dell'estate che ci sarà il numero uno Chi ci sarà? Tre settimane eh voglio dire, potrebbe andare avanti così Francesco Gabbani tra le greppe e le granate Ciao ragazzi, fatemi fare un po' il rapper, yo bro, siamo ancora primi in radio